Formats vuole sfruttare questo periodo di discontinuità per allinearsi alle esigenze dei prossimi anni. Vogliamo rivedere i nostri processi, semplificarli, riadattare le nostre procedure. Abbiamo in previsione un cambio radicale del nostro sistema informatico. Per quanto riguarda la digitalizzazione abbiamo degli strumenti legati all'intelligenza artificiale, quali la piattaforma FAST per i piccoli comuni che estenderemo ulteriormente ed è una grande opportunità per i comuni per generare e correggere in modo automatico e intelligente gli atti amministrativi. Vogliamo essere un laboratorio per le pubbliche amministrazioni quindi essere in grado di provare prima di loro essere testimonial dei percorsi di miglioramento che vorranno intraprendere. Questa è la sfida, abbiamo le persone, abbiamo gli strumenti.